La notte troppo silenziosa adesso, l'amore è un'altra cosa, l'amore è un'altra cosa. Destinazione, costa dei Gilzomini in Calabria, come volontari ai campi tartarughe del WWF Palizzi. Colazione in campeggio sullo splendido mare e ogni tanto rumori nuovi ed inconsueti. Il mondo tutto dipende... Il pane caldo direttamente dal porno. Si parte con i sacchi a pelo per presidare sotto le stelle una schiusa notturna ed incontrare sulla spiaggia il professor Mingozzi, responsabile del progetto Tartaker. Ci troviamo su una grande spiaggia vicino a Bova Marina. Quello che voi vedete qui accanto a me è un vecinto fatto con una rete ombreggiante che i ragazzi da giù stanno finendo di costruire per permettere a tante piccole tartarughe di schiudere in tranquillità da un nido che è posto qui al centro di questa macchiamanda. Il salvo, il suo assistente, ci farà vivere un parto cesareo. Andavano lente ma appena hanno sentito la sabbia bagnata... Un'altra viva, Carlo dov'è? Un'altra viva. Fanno adesso per la prima volta nel mare. Il percorso adesso lo fanno con questi amici. E' stato un parto cesareo? Assisteremo ad una schiusa naturale notturna, addirittura con i fuochi artificiali. Sto spostando quella. Se la fai a prenderle tutte? Sto spostando. Fate le vostre scommesse. Fate le vostre scommesse. Questa qui vince secondo me. Eccoci qua. Tutti contenti a degustare cappuccino, granite, latte di mandorle. Brioche. Eccolo qua. Ti metti questo in testa, il cappellino? Ecco qua, un po' più basso, un po' più a sinistra. Ecco, perfetto. Scilla, con alcuni dei suoi magici scorci e le spadare nel porticciolo, prima di fare l'immersione. ecco qua. Scilla, con alcuni dei suoi magici scorci e le spadare nel porticciolo. Pasquale. Basta vedere l'aria che si respira. Il fatto stesso che molti giovani che frequentano questo posto da anni d'inverno si frequentano, si sentono per telefono, condividono gioie e anche a volte dolori, perché non sempre le cose vanno lisce. molti ragazzi si danno appuntamento qui per il fine luglio, molti di loro studiano nelle università al nord Italia. Credo che ci sia necessità di costruire una rete che ci consente veramente di intervenire insieme al giro rispetto a queste cose, perché le difficoltà sono tante. L'idea di sviluppo veramente interessante è che la gente cammina a piedi. Quindi, allora, fare di questo posto un posto lento. Esatto, fare di questo posto un posto che si cammina a piedi. Oggi, riprendere questi percorsi che oltretutto ci sono veramente di pieno architettonico, poi lì attorno a questo creare tradizioni, quindi rifare rivivere sia culinarie sia tradizioni linguistiche. Quindi, attorno a questa dorsale costruire una nuova immagine vera. che è fatta di lentezza, che è fatta con l'ospedalità diffusa. Noi abbiamo dei borghi bellissimi che sono abbandonati. Io dico, se quando me ne vado da qui questo processo è partito, non dico realizzato, ma che sia partito, andrò a dormire con te. E per finire, tutti in pizzeria, dove un dipinto artigianale con tre rubinetti cita. Caressia per caressia, chiuditi l'acqua. Arrivo subito! È mio! È mio! È mio! So bello! Da che punto guardi il mondo tutto dipendè! E ti dico che la palla è uno gioco tondo Che può rappresentare pure tutto il mondo E che la libertà è una condizione Adesso andando è tutta altra cosa che è una definizione Ora definisco che è altro che il capo Quattro dio è una festezza, quel cosa scopi da te E' un'amica sulla gente del centro Bella cascante, però la bella cascante La bella cascante, la bella cascante Però la bella cascante, la bella cascante